Ben trovati ai nostri itinerari domenicali. Proseguiamo il nostro approfondimento sul tema della pace in un momento sicuramente molto travagliato della nostra umanità segnata da sciagure, da guerra soprattutto. Ma in questo buio, in questa oscurità, la luce di Maria è fondamentale. E allora vediamo subito un servizio introduttivo prima di entrare nel merito del tema del giorno. In un mondo dilaniato da conflitti e divisioni, la figura di Maria, regina della pace, si erge come un faro di speranza e consolazione. Maria, madre di Gesù, è venerata come un simbolo di pace, compassione e perdono. Il suo amore materno offre conforto a coloro che soffrono a causa della guerra e della violenza. In queste ore è incessante la preghiera a Maria per chiedere intercessione e la protezione per coloro che vivono nelle zone di conflitto e per coloro che sono impegnati nel lavoro per la pace. Questa devozione non è limitata alla solo comunità cristiana, ma è condivisa da persone di diverse fedi che cercano un simbolo di speranza e unità in tempi di crisi. La figura di Maria, regina della pace, ci ricorda anche l'importanza della riconciliazione e del perdono nel processo di guarigione delle ferite causate dalla guerra. La sua vita e il suo esempio ci ispirano a cercare la pace attraverso il dialogo, la comprensione e la solidarietà. In un'epoca in cui le tensioni globali sembrano sempre più insormontabili, la devozione a Maria ci invita a non perdere mai la speranza e a continuare a lavorare instancabilmente per un mondo in cui la pace e la giustizia possano finalmente trionfare. La presenza di Maria è stata una costante per tutta la vita di Padre Pio, dall'inizio fino alla sua fine terrena, ed è sempre stata il punto di riferimento delle sue preghiere, soprattutto di quelle elevate per invocare l'intervento divino sui bisogni dell'umanità. Padre Pio teneva fissi i suoi occhi negli occhi della Mamma Celeste, avendo piena consapevolezza che le nostre preghiere valgono niente o quasi niente, mentre diventano quasi onnipotenti quando sono accompagnate, come in un duetto, dalla intercessione della Madonna. Dunque, l'intercessione di Maria per la pace è un elemento fondamentale nella vita di fede di tante persone. Come abbiamo ascoltato, lo stesso Padre Pio e la sua devozione verso Maria era orientato nella richiesta continua di preghiere per la pace e per i bisogni dell'umanità. Ma siamo in collegamento quest'oggi con un monaco benedettino, Don Felice Poli, che ha scritto un libro che riassume, in un certo senso, quanto vogliamo esprimere e proporvi quest'oggi, Il trionfo di Maria in un mondo corrotto, edito da Velar. Don Felice, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi che mi ascoltate. Dunque, affascinante questo tema della pace. E certo, Don Felice, soprattutto in questi giorni, come dicevo, in cui si susseguono troppo frequentemente annunci di sciagure, profezie, previsioni inquietanti, soprattutto la guerra. Ma in tutto questo, come dicevamo, Maria assume un ruolo centrale, come non mai, come guida, ma soprattutto come punto di riferimento nella richiesta continua di pace. Ecco, è tutto quello che possiamo riassumere in poche righe, ma sicuramente nel suo libro c'è tanto altro. Ci può raccontare un po' questa esperienza? L'esperienza che ho maturato così attraverso l'Alessio Divina, una lettura sapienziale, pensando a quello che accade, ma pensando alla luce della fede, partendo da quel momento mirabile, quando l'uomo, corrotto dal peccato, viene quasi inseguito dal buon Dio, e viene subito un nome, la donna, la donna che scaccerà il capo al serpente. Poi la storia, una storia lunga, di secoli, sembrerebbe che quasi questa profezia si rilevvi nel tempo. Poi arriva la pienezza, la pienezza del tempo, e Maria assume il suo ruolo. Viene un nome, la donna è Maria, Maria sarà la madre di Dio, la madre di Gesù, comincia a maturare questo pensiero della pace, che è un ulteriore percorso. Questa donna che entra nel vivo della storia della redenzione, solo perché è madre, ma perché è corredentrice. Cominciamo a sapere che questo ruolo è importantissimo. Quando dall'alto della croce il figlio che moriva ha detto a lei, ecco tuo figlio, parlava di me, di te, tutti voi che ci ascoltate, stava scandendo i nostri nomi, e stava dicendo, ecco tua madre, dobbiamo solo prenderla con noi. Poi ci accorgeremo che la pace passa attraverso una semplice esperienza, però deve essere intensa, semplice ma intensa. Io lo definisco il Sì di Maria. Un Sì di Maria che possiamo riproporre anche nella nostra quotidianità, con il nostro sì, soprattutto orientato alla pace, alla riconciliazione, nei gesti quotidiani. Sì, è verissimo questo, perché il Sì di Maria è diretto a tutti noi. C'è un no nel peccato, terribile, terrificante, che continua la sua opera. Sembrerebbe anche addirittura che potesse trionfare questo no sul Sì di Maria, sul nostro Sì, sul Sì perenne di Dio che ama la nostra umanità, ama ciascuno di noi. Invece no. A se avesse questo travaglio, questo percorso, che è già stato vissuto, ma che si ripete nella storia, è un'apparente sconfitta. Il figlio di Dio che viene nel mondo a portare la pace è vittima dell'odio, è vittima di una violenza terribile, terrificante. Potremmo da dire, se non fossimo umili ad accettare il mistero, perfino delirante. È un'opera divina, misteriosa. La scudiamo nei margini noi, perché non possiamo andare oltre. È il nostro limite umano. Però sappiamo che c'è un'opera meravigliosa. quello che era stato distrutto deve essere riportato in vita. Ecco il buon Dio che dopo aver creato, con la sua onnipotenza, con la forza del suo amore, adesso chiede e proclama che per rifare l'uomo occorre una mamma, che lei si è scelta, una sposa, una mamma che si è scelta, perché ognuno di noi deve essere rigenerato su quell'impronta meravigliosa che conosciamo, sull'impronta di Cristo. Quest'uomo violento, a quest'uomo che non sente più Dio, che si è smarrito, che rimane nudo, che è preso dalla paura, deve scoprire che c'è un momento in cui proprio attraverso questa terribile umiliazione che stiamo vivendo dobbiamo riscoprire l'umiltà. Io ho scritto un semplice pensiero, visto che ha tratto tanta attenzione. Stai attento, uomo. Se non ti umili, Dio ti umilia, ma per riportarti alla luce. È un po' come tornare bambini deponendo la nostra alterigia, il nostro egoismo. Ecco, la via che ci indica Maria è quella di suo figlio e in questa rinascita potremmo già intravedere la luce del suo trionfo. Sicurissimamente. Se non torniamo come bambini, non solo non entriamo nel regno di Dio, ma ci priviamo di questa luce radiosa che emane da questa mamma che è piena di grazia e da una tale intensità di amore si è riversato su di lei che non solo è capace di generare il figlio di Dio, ma è capace di rigenerare ognuno di noi. Questa è la novità. Però tutto questo passa attraverso un'esperienza che lei ha vissuto e che diventa il grande insegnamento. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, per cui ha fatto grandi cose in lei. Questa umiltà significa il sì. Il libro è improntato proprio su questo sì. Il sì di Maria è ininterrotto da quando è stato scandito il suo nome misteriosamente lontano nel tempo fino al sì vero. Eccomi, sono la serva del Signore proclamata un angelo, proclamati al cielo, proclamata l'umanità. Il sì di Maria è il segno già pieno della pace che poi trova il suo compimento ulteriore. Sta arrivando il tempo del suo sì. Sentiamo che le sue apparizioni scandiscono questo sì, non solo il sì perenne. Il sì che risuona nel cielo e apre le porte del cielo all'umanità intera, ma il sì che in modo speciale si manifesta in questo tempo di turbolenze per correggere un errore terribile. L'errore terribile è questo. Dio è sconfitto dall'uomo. No. È un'eresia. È serpeggia. Io che sono un confessore sento dirmi spesso Dio mi ha abbandonato. È un'eresia tremenda. E ridurre Dio a un venticativo. La Madonna ci fa riscoprire l'amore. L'amore vero, l'amore di Dio che passa anche attraverso i nostri travagli. Ma è sempre suo il trionfo. È sempre il suo la vittoria. Le guerre sono guerre. L'uccisione di Dio sembrava una sconfitta. ognuno di noi in certi momenti pare che debba alzare la bandiera bianca. Ma poi questa grazia è incessante. È incessante la grazia di Dio ma filtrata, diremo quasi, dall'amore materno. la Chiesa ha vissuto la Chiesa ha vissuto i momenti migliori quando questa mamma ha assunto il suo ruolo di essere madre della Chiesa, di essere amare di ognuno, di essere la contraddizia del genere umano. Forse qualche volta, lo diciamo con un po' di rammarico, ci siamo dimenticati di questo immenso dono che Dio ci ha dato. Ecco, Don Felice, questo suo libro è sicuramente un motivo in più per approfondire questi temi così importanti. Ma noi proseguiremo anche nell'ambito del nostro programma andando nel concreto in quelli che possono essere anche i gesti, le azioni che l'uomo può fare per raggiungere in primis l'obiettivo della pace. Entriamo poi nel merito di quella che è la situazione in Medio Oriente con un operatore della Caritas che vive queste situazioni in maniera, come dire, diretta. Lo faremo appunto nella seconda parte. Intanto però, Don Felice, volevo salutarla chiedendole un pensiero rivolto appunto alla pace. Come potremmo pregare in modo efficace per questo obiettivo? Non ho alcun dubbio. La Madonna sta proclamando ancora una volta con tutta l'intensità del suo amore e chiede che si forme un coro, il coro dell'umanità che si unisce a lei. L'anima mia magnifica al Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Esso guarderà l'uomo che si umilia o diventa umile diciamo forzatamente ma diventa umile e allora questa umiltà apre il cielo. E tutto quello che è stata la presunzione della cattiveria umana viene cancellata da questa umiltà che attrae ancora la migliore potenza di Dio. Ce lo auguriamo di cuore. Un affettuoso saluto la mia benedizione a coloro che ci ascoltano. Grazie, grazie di cuore Don Felice per questo suo contributo e soprattutto per la sua benedizione. Noi ci fermiamo per qualche minuto poi insieme ancora per la seconda parte del nostro programma. Seconda parte di Itinerari Domenicali torniamo insieme per proseguire questo nostro approfondimento sui temi della pace e soprattutto del contributo che tante realtà offrono in contesti particolari. Oggi presentiamo Danilo Felice Angeli che si occupa di cooperazione allo sviluppo ed emergenze umanitari impegnato in progetti in tre continenti e in più di 30 paesi tra cui l'Italia. Ha lavorato molto con organizzazioni non governative ma anche con imprese private enti locali e istituzioni internazionali sempre come consulente esterno. Grazie all'esperienza maturata sul campo e al continuo aggiornamento teorico aiuta anche piccole e medie organizzazioni a rispondere a grandi sfide per costruire un futuro migliore. In questo ambito l'impegno all'interno della Caritas ma andiamo per ordine e intanto salutiamo subito il nostro ospite. Benvenuto tra noi Danilo. Grazie grazie un saludo a tutti. Dunque abbiamo fatto un cenno generale a quelli che sono i tuoi ambiti specifici in cui operi in contesti sicuramente diversi l'uno dall'altro piccole realtà grandi realtà ma soprattutto negli ultimi tempi l'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza. Ecco in quali contesti hai operato? Sì purtroppo appunto sono stati un po' tutti i contesti difficili complessi colpiti da tragedie umanitarie di varia natura quasi molti casi emergenze naturali in seguito appunto a calamità come terremotio iniziato nel 2004 con lo tsunami in Asia che colpì appunto un po' i territori più orientali dell'Asia l'Indonesia l'India lo Sri Lanka e poi da lì purtroppo un susseguirsi di eventi catastrofici sia naturali che invece provocati dall'uomo come appunto in questi ultimi anni da circa dieci anni mi occupo di Medio Oriente e qui purtroppo il problema principale nonostante ci sia stato anche l'anno scorso un terremoto molto grave in Siria però il problema principale è la guerra la violenza la guerra appunto provocata dall'uomo quindi i danni i disastri la distruzione la sofferenza le morti provocate dall'uomo da scelte politiche precise che fanno riferimento a delle persone con dei nomi e cognomi e in questo caso chiaramente è molto più difficile più complesso più doloroso operare perché appunto la forza della natura purtroppo in qualche modo è più facile da accettare ma quando c'è la violenza la cattiveria dell'uomo è anche più difficile dal punto di vista emotivo diciamo e sicuramente in questi contesti così diversi hai imparato a gestire anche situazioni difficili ecco che tipo di lettura della realtà hai potuto trarre da queste situazioni beh sì appunto le situazioni sono appunto molto difficili e molto complesse in cui prima di tutto bisogna cercare di portare una solidarietà anche umana alla popolazione colpita quindi entrare in quei contesti per noi che siamo esterni che veniamo appunto siamo dei privilegiati perché veniamo da un paese che vive da 70 anni in una pace duratura e permanente che vive in un livello di benessere importante quindi quando arrivi in quel contesto non solo trovi appunto una popolazione piagata dalla sofferenza per quello che è accaduto ma anche traumatizzata chiaramente quindi non è solo una questione di bisogni materiali a cui bisogna rispondere a cui dobbiamo cercare di rispondere per un senso di solidarietà di solidarietà umana ma c'è anche un po' quell'attenzione forte a cercare di capire il trauma che quella popolazione ha vissuto e sta vivendo un trauma che in alcuni casi nel caso appunto di emergenze magari naturali si è compiuto forse in pochi secondi in pochi minuti in cui quella tragedia o qualche giornata in cui quella tragedia si è sviluppata però poi va rielaborato va vissuto lascia dei lutti lascia della distruzione nel caso delle guerre è un trauma continuo immaginiamo appunto i tanti i due milioni più di due milioni di abitanti a Gaza che da più di sei mesi vivono sotto continui bombardamenti lì non ci sono solo i bisogni materiali lì è assaltato qualsiasi sistema di riferimento qualsiasi anche capacità di resilienza da un punto di vista psicologico qualsiasi la struttura sociale non solo c'è il dolore del lutto di quello che sta succedendo ma anche appunto questo trauma forte che purtroppo un po' influisce a tutti i livelli della vita quotidiana certamente andremo ad approfondire anche l'attualità del contesto in Palestina ma quando parli di macerie l'idea anche per certi aspetti poetica ma soprattutto di speranza è quello di vedere nascere dei fiori tra le macerie appunto ed è questo il tema che viene sicuramente affrontato anche attraverso il nome stesso che viene dato ad un progetto che vede protagonista Caritas Siria insieme a Caritas Italiana di cui ti sei occupato ecco nello specifico di cosa si tratta sì appunto il progetto si chiama Come fiori tra le macerie e nel contesto siriano appunto lavoriamo un po' come Caritas Italiana dall'immediato dopo guerra diciamo dal 2012 abbiamo iniziato una presenza anche abbastanza intensa di affiancamento a Caritas Siria ai colleghi siriani che appunto come dicevo prima stavano vivendo oltre al problema della distruzione materiale della devastazione del loro paese anche tutti i traumi della guerra quindi non erano purtroppo in condizioni di poter rispondere da soli a quello che stava succedendo e quindi Caritas Italiana insieme ad altre Caritas internazionali abbiamo iniziato questo lavoro di affiancamento di supporto di sostegno ai colleghi di Caritas Siria però ecco i primi anni chiaramente ci siamo concentrati soprattutto sull'aiuto umanitario sull'aiuto umanitario d'urgenza che poteva dare una risposta ai bisogni materiali per persone che avevano perso tutto stavano perdendo tutto c'era bisogno c'è ancora purtroppo perché la guerra è ancora in corso bisogno di cibo di vestiti di assistenza sanitaria soprattutto però ecco chiaramente operando in un contesto di guerra non si può trascurare il fatto che appunto tutti questi bisogni sono stati causati dalla guerra dalla violenza che in quel caso poi soprattutto si tratta di una guerra civile quindi di una guerra tra componenti di una stessa comunità che a un certo punto per molte ragioni sono entrati in conflitto tra loro e quindi ecco questo grosso livello di conflittualità sociale va affrontata in qualche modo ne va tenuto conto se vogliamo aiutare i siriani per questo abbiamo attivato questo processo questo percorso di riconciliazione partendo dai giovani quindi ci siamo concentrati sui giovani siriani e attraverso la bellezza dell'arte un'arte tradizionale damascena che si chiama ajami una decorazione sul legno abbiamo iniziato a fornire questi corsi di formazione sull'arte dei laboratori di formazione sull'arte che avevano sicuramente anche l'effetto di fare un po' appunto di riabilitazione psicologica per questi ragazzi ma soprattutto di far incontrare ragazzi con background differenti con origini differenti quindi che attraverso l'arte però si ritrovavano l'arte tradizionale del loro paese si ritrovavano insieme si conoscevano uno con l'altro e riuscivano a superare quelle barriere che invece le avevano divisi hanno portato le varie comunità a scontrarsi anche a livello violento appunto a uccidersi l'uno con l'altro quindi un progetto molto importante che facilita l'incontro tra diversi attraverso un elemento che unifica che è quello dell'arte questo progetto sta portando dei buonissimi frutti i ragazzi seriani sono stupendi stanno rispondendo in una maniera veramente incredibile e tu sei l'operatore incaricato da Caritas Italiana come dicevamo di coordinare gli interventi dei progetti di aiuto alle popolazioni nell'area del Medio Oriente con particolare attenzione ora negli ultimi tempi soprattutto alla striscia di Gaza ecco ci puoi aggiornare su quella che è la realtà della popolazione palestinese sì questo è veramente il periodo terribile per la popolazione palestinese nella striscia di Gaza in particolare ma anche in tutta la Cisgiordania purtroppo dove anche lì ci sono violenze ci sono morti e c'è un livello di povertà che ormai è raggiunto un livello molto alto e pesante però chiaramente a Gaza in tutta la striscia veramente la devastazione è enorme e noi stiamo lavorando con i colleghi di Caritas Gerusalemme che purtroppo hanno subito chiaramente dei morti perché Caritas Gerusalemme ha più di 60 operatori che dal 7 ottobre non hanno mai smesso di lavorare tra cui purtroppo abbiamo perso due colleghi Viola e Issam che sono morti anche loro sotto le bombe israeliane la situazione ad oggi vede un bilancio enorme più di 33 mila morti tra i palestinesi a Gaza di cui almeno il 70% sono donne e bambini quindi parliamo di circa 20 mila tra donne e bambini che sono morti quindi chiaramente persone che non centravano nulla con questa guerra con la violenza non erano terroristi non centravano nulla con Hamas così come i nostri due colleghi che sono morti appunto quindi il livello del bilancio dei morti è altissimo chiaramente anche moltissimi morti israeliani perché appunto i 1200 durante l'attacco terribile del 7 ottobre più i soldati che sono morti in questi mesi quindi un bilancio che veramente in sei mesi è un bilancio drammatico ma oltre questo poi c'è la devastazione totale adesso hanno appunto probabilmente avrete sentito che le truppe israeliane si sono ritirate da Hanunis e sono appena entrati ieri colleghi delle Nazioni Unite delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite che hanno descritto la situazione come veramente un deserto di macerie cioè pieno con una puzza purtroppo di cadaveri che viene dalle macerie ordigni inesplosi lungo le strade dentro le scuole dentro le case leggevo un'intervista questa mattina di un famoso giornalista israeliano che diceva comunque in ogni caso anche quando questa guerra finirà tutto questo orrore come potremo superarlo cioè anche a livello psicologico come potremmo fare a continuare a vivere con tutto questo orrore che c'è stato dal 7 ottobre in poi purtroppo la situazione umanitaria è terribile manca tutto in questo momento a casa le persone stanno morendo di fame letteralmente si contano già più di 30 morti di fame moltissimi bambini denutriti però ecco oltre ai bisogni materiali ci sarà bisogno di ricostruire veramente l'anima delle persone perché il dolore che si è vissuto in questi sei mesi è veramente inenarrabile certo possiamo soltanto immaginare questa finestra di inferno possiamo definirla così che si è aperta sulla striscia di Gaza ecco Danilo noi abbiamo in questo poco tempo a nostra disposizione dato un'idea anche diciamo veloce non dico superficiale perché siamo entrati nel merito di quella che è l'attività importante delle organizzazioni umanitarie in questi ambiti ma vogliamo chiudere con un messaggio di speranza che è quello che vede appunto il vostro operare su diversi piani da quello materiale immediato rispetto alle esigenze diciamo che si vengono a creare nella popolazione a causa della guerra ma anche soprattutto su quello dal punto di vista psicologico con il recupero se così possiamo dire delle persone traumatizzate da questi eventi ma anche la speranza è quella di un percorso di riconciliazione che seppur in questo momento potrebbe sembrare lontanissimo comunque una meta da perseguire sì esatto noi stiamo lavorando appunto come Caritas Italiana a sostegno di Caritas Celusalemme per questo grande programma umanitario che sta portando aiuto a più di 23.000 persone a Gaza e in Cisgiordania però appunto è fondamentale lavorare per una riconciliazione e per la costruzione della pace quindi per questo ci stiamo impegnando con ONG israeliane abbiamo in particolare due partner israeliani Neve Shalom e Friendship Village che da tempo si impegnano appunto per questo dialogo tra israeliani e palestinesi e anche questo li stiamo sostenendo appunto in questa fase così difficile chiaramente anche loro sono traumatizzati e scioccati da quello che sta succedendo e a maggior ragione perché appunto il loro governo si sta macchiando di tutte queste atrocità però ecco sono moltissimi israeliani che vogliono la pace e da questo appunto così come chiaramente moltissimi palestinesi da questo dobbiamo ripartire dalle persone comuni dalla gente comuni loro stanno realizzando un programma di intervento nelle università israeliane nei collegi e nelle università israeliane ripartendo quindi anche qui dai giovani che vogliono la pace che vogliono un futuro di pace e di convivenza serena ecco dobbiamo ripartire da questo lasciare da parte la politica lasciare da parte le grandi istituzioni e ripartire sostenendo la gente e le persone comuni che vogliono la pace grazie grazie di cuore Danilo e buon lavoro può sembrare un augurio scontato ma in questo caso in particolare è sicuramente un auspicio che ci uniamo insieme coralmente anche noi qui da Padre Pio TV grazie e a presto grazie a voi grazie a voi e termina qui il nostro appuntamento con itinerari domenicali alla settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti